Riesce a evitare il calcio d'angolo, Guardalini facendo affarino che si può proseguire, poi rischia Sanetti in area di rigore attaccato da Nedved se la cava di forza ancora il capitato dell'Inter, sempre però Nedved a dargli fastidio e alla fine esce in questo duello Sanetti palla al piede, prende grandi applausi, lancia addirittura